Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Un cuore dolce, che diffonde la suavità e l'incanto del tuo amore. Un cuore aperto, accogliente, pieno di comprensione per le pene degli altri. Un cuore benevolo, che sia il messaggero della tua bontà e della tua pace. Un cuore semplice e allegro, che conservi la sua gioia anche nell'esperienza della propria miseria, perché ha fiducia nel tuo amore onnipotente. Un cuore silenzioso, che sappia tacere il male e che perdoni e dimentichi ogni offesa. Un cuore generoso, che non rifiuti mai di servire e di sacrificarsi per gli altri. Un cuore sacrificato, capace di offrire in segreto, ma con entusiasmo, le sue prove per la salvezza delle anime. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti.